Allora, Stefano Rabaglietti ci si è pettinato, vuol dire che è successo qualcosa, no? Promozione, te 38 punti oggi, partita strepitosa, vittoria dopo due overtime, che soddisfazione Stefano? Cioè, incredibile, vincere un campionato è sempre la cosa più bella del mondo, non puoi paragonare. Che hai vissuto certe cose, i tuoi compagni, cose belle, cose brutte, sei cresciuto, ho visto crescere i ragazzi, sono cresciuti vicino a me e sono cresciuto io con loro, ero proprio contento, è stata la conclusione stupenda, un'annata fantastica. Una partita dove dentro ce ne stanno 4-5 probabilmente, perché due supplementari l'avete vinta, poi avete rischiato di perderla, te hai messo due canestri pesantissimi per riprenderla, poi Carlo che ha giocato su una gamba sola, insomma c'è dentro veramente di tutto questa serata. Sì, ci abbiamo messo il nostro, perché siamo una squadra giovane, sotto pressione, sbagliati liberi, siamo una squadra che fa cose buone, alternata a cose cattive, ma alla fine assieme siamo riusciti a portarla a casa. Poi ovviamente magari sono dovuto prendere responsabilità a fine partita, perché è giusto che sia così. E anche Carlo ha dato un grande contributo, infatti ci siamo fidati a dargli l'ultimo pallone. Senti, ora festeggiate, però te hai una dedica particolare per questa vittoria di vestito a campionato? Va veramente alla mia famiglia che mi ha supportato in questi tantissimi anni che ho girato per l'Italia e finalmente sono tornato a Firenze e ho fatto qualcosa di bello per la mia città. Sono veramente contento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.